Quando il sole scende e la luna sorge su Innistrad, l'umanità diventa preda universale. Branchi di lupi mannari emergono come un'onda, attirati dalla luna, la loro umanità spazzata via da rabbia animale. Le famiglie di vampiri mostrano i denti all'aroma di sangue umano. Orde di morti viventi si trascinano tra manieri e brughiere guidati dalla loro innata fame per i viventi. Abomini creati alchemicamente tornano in vita nei laboratori degli alchimisti. Spettri infestano i solitari villaggi umani e spaventano i viaggiatori lungo i sentieri più oscuri. Dagli abissi più profondi di Innistrad, potenti demoni ed empie creature complottano. Gli umani di Innistrad hanno fatto del loro meglio proporsi. Hanno formato ronde armate di torce per purificare gli abomini col fuoco. Addestrato speciali guerrieri sacri, chiamati catari, per combattere gli orrori sovrannaturali. Molti di loro brandiscono il potere della fede nella chiesa di Avacin. Ma le armi dei cittadini, dei soldati e dei sacerdoti non servono più. Le loro preghiere e le loro rune non hanno più lo stesso potere. I talismani d'argento non spaventano più gli orrori notturni. I sacri simboli di Avacin non impediscono più ai tombaroli di disturbare i morti. Le cose stanno progressivamente peggiorando per gli umani delle quattro regioni del piano. I territori conosciuti di Innistrad sono divisi in quattro regioni chiamate province. La provincia di Gavoni è dove l'umanità resta più forte e protetta. È la casa di Traben, la più grande città del mondo conosciuto, che ospita la maestosa cattedrale di Avacin, centro religioso e luogo dove il grande arcangelo risiede. Città minori riempiono l'intorno di Traben lungo le brughiere rocciose di Gavoni. Data la presenza della maggior concentrazione di cadaveri, Gavoni risente più delle altre province della piaga dei non morti e gli spettri sono il pane quotidiano. Il vasto e boscoso introterra del piano è chiamato Kessig, una provincia nello stato di perpetuo autunno. Profondi boschi fanno da sovrani qui, anche se alcune comunità umane hanno ritagliato dei piccoli villaggi dediti all'agricoltura. Persino i nuovi arrivati a Kessig sanno che non è saggio uscire la notte. Anche se la natura non è stregata, non sarebbe saggio. I lupi mannari infestano la provincia, a volte soli ed a volte in branchi. I vampiri controllano la provincia di Stensia, che è la più oscura e montagnosa parte del piano. Le foreste sempreverdi, qui sono sempre mezze morte e le strade sono sempre nebbiose e deserte. Le frastagliate colline nascondono isolati villaggi umani i manieri di vampiri gli uni dagli altri. Alle soglie della provincia, alti pin sorvegliano le alte vette dove nessun umano osa avventurarsi. A Stensia, il sole, sembra non riuscire a penetrare le spesse nubi. Questa provincia costiera è la casa di numerose cittadine portuali situate spesso sulla bocca di fiumi che conducono nell'entroterra. I pantani di Nefalia e i suoi mari di nebbia favoriscono il mistero ed il crimine. È popolata per la maggior parte da umani, spettri e vampiri. Tutti nascondendo affari, segreti o solitudine. Le spiagge argente della provincia, interrotti da promontori rocciosi e caverne, permettono un più facile accesso al suo mare pelato di nebbia. Il sonno benedetto La chiave di volta della chiesa di Avacin riguarda le condizioni della morte. Per gli abitanti di Innistrad Il sonno benedetto si considera quindi una ricompensa per una vita virtuosa e vigile. Tu possa trascorrere l'eternità nel terreno. È una comune benedizione tra le genti del piano. Apparentemente su Innistrad molti dei fenomeni sovrannaturali sono influenzati dalla luna, tanto che ogni stagione, con la sua relativa posizione lunare, pare possa influenzare differenti tribù. Luna del raccolto Rappresenta l'autunno di Innistrad e rende più forti i vampiri. Luna del cacciatore È l'inverno lungo e freddo del piano e rende più forti tutti i lupi mannari. La luna nuova O se vogliamo vederla in ottica a twilight The new moon È praticamente la primavera e rende più forti tutti gli esseri umani. Poi c'è una quarta luna che è la luna d'argento che non è altro che la luna fisica del piano cioè il satellite che gli gira intorno. Secondo molti è composta da una sottile polvere d'argento. Questo materiale è associato all'arcangelo Avas per la sua utilità nella lotta alle forze maligne. Ed eccoci arrivati dopo una lunga introduzione alla trama del blocco quella che io preferisco più di tutto al resto e che secondo me rende magic non un gioco di carte ma il gioco di carte. Innistrad è un mondo oscuro e tenebroso abitato da orrori e mostri sovrannaturali di ogni genere e da umani. umani per lo più indifesi dalle insidie di vampiri lupi mannari spettri e zombie. Un giorno però le tenebre si diradano ed arriva Avasin un bellissimo arcangelo che riporta la luce nel mana nero che infesta il piano e soprattutto equilibrio nella bilancia delle razze in lotta. questo però aprì uno spiraglio ai demoni del piano. Col passare del tempo la minaccia dei demoni si fece più presente Avasin li sconfiggeva uno dopo l'altro ma queste creature erano composte di pura umana e si ricomparivano sotto le altre forme dopo essere state uccise. Grisel Barni il demone salì al potere oscurando tutti gli altri e dando nuova forza al culto di Skirsdag una società segreta che venerava i demoni parallela al culto di Avasin in Traben. Ciò che non può essere ucciso sarà rinchiuso pronunciò Avasin che ideò il collare lo strumento d'argento che si vede in molte illustrazioni e che è presente anche sullo stemma della provincia di Gavoni. Ma Avasin è sparita. Da alcune stagioni non vi sono più sue apparizioni e la sua assenza inizia a farsi sentire. Le preghiere dei villaggi lontani non sono più efficaci le rune e i simboli sacri non proteggono più da vampiri e lumannari i cimiteri sono violati dagli Skaberen alchimisti in cerca di membra umane. Se gli anziani della chiesa di Avasin sanno qualcosa della sua scomparsa nessuno compreso Micaeus il Lunarca Reggente hanno niente da riferire. Nello stesso periodo anche il demone Griselbarne è misteriosamente scomparso e entrambi i culti dominanti di Innistrad si sono ritrovati senza guida e la popolazione umana è lasciata nelle mani o meglio nelle zampe dei terribili orrori che abitano il piano la storia degli umani sta per finire solo le azioni dei valorosi planeswalker potranno dircelo a Autore dei sorrisi